Una mostra di riscoperte e di novità che presenta personaggi dimenticati, ma che presenta una ricchezza di opere, quasi mille fogli, che è ben rappresentativa della qualità, dell'importanza della ricchezza delle collezioni civiche per quanto concerne i disegni dell'Ottocento. Artisti che hanno raffigurato e che hanno contribuito in maniera determinante alla conoscenza allora di Venezia, di suoi aspetti monumentali, di suoi aspetti pittoreschi, di suoi aspetti anche sociali e umani, come nelle inedite tavole di Eugenio Bosa, con cui la mostra si conclude e che è forse la novità più rilevante di questa mostra, che è il frutto di un importante scavo dentro alle ricchissime miniere delle nostre collezioni. Si tratta di opere prodotte da artisti veneziani o che hanno Venezia come soggetto nel corso dei primi, in grosso modo, dei primi cinque, sei decenni dell'Ottocento, in una fase finora poco conosciuta da questo punto di vista, scarsamente conosciuta anche dal punto di vista storico, e che però riserva delle sorprese molto importanti. Partiamo dai disegni, dagli studi, dagli schizzi preparatori dell'ultimo rampollo della famiglia Guardi, Giacomo, che peraltro è autore di un genere agli esordi delle sue fortune, cioè quello della piccola veduta di souvenir per turisti, piccoli acquarelli, schizzi, oppure disegni preparati e finiti con il gusto della completezza anche, del piccolo gioiello in qualche modo di veduta. Per esempio tutta la parte dedicata alle isole di Venezia, quelle che oggi sono abbandonate, è molto vivace e molto interessante. E si passa poi attraverso nomi noti o meno noti. Un grande litografo come Marco Moro, un altrettanto grande, forse più, lo stesso litografo incisore come Giovanni Pividor, che è una delle grandi rivalutazioni di questa mostra, di cui sono presenti in mostra sia schizzi, appunti, dettagli, sia uno straordinario insieme di tavole, più di 80 tavole finite, pronte per la pubblicazione, poi di fatto mai pubblicate, souvenir de Venise. Nella mostra poi ci sono tre scoperte vere e proprie. L'uno è un artista fiammingo, belga fiammingo, Franz o François Verbloet, spesso presente a Venezia dove trascorrerà gli ultimi dieci anni della sua vita, prima di morire a Venezia appunto nel 1872. La massa dei 200 disegni di Verbloet sono invece una documentazione straordinaria della vita quotidiana, però anche della veduta, delle trasformazioni della città, non so, i ponti in ferro sul canale grande, piuttosto che le trasformazioni subite da alcune realtà monumentali, oppure per esempio la interessantissima documentazione che ci dà degli interni della Scuola Grande di San Rocco. L'altro artista che proponiamo, un artista famosissimo, che proponiamo invece nella sua parte anche di grafica, di disegnatore, oltre che con un consistente nucleo di opere, è il grandissimo vedutista veneziano Ippolito Caffi, con le indagini sulle persone, i gruppi, le feste, i carnevali, i poliziotti, le despie della Venezia austriaca, estremamente rara e oggi direi insostituibile per capire questa città. Infine, infine, la grande novità, se si vuole, la grande scoperta, o riscoperta, è un artista di cui si è perso, o si era persa abbastanza la nozione addirittura, ed è Eugenio Bosa. Lui, Eugenio, di cui noi presentiamo una vastissima selezione della produzione grafica, è un artista non di vedute, ma un artista sulla popolazione, sulla gente, macchiette, personaggi insoliti, pescatori, chiogiotti e veneziani, bambini, prelati e così via, colti per la parte degli schizzi nella vivacità e nella immediatezza dei loro comportamenti e per la parte dei disegni finiti in una straordinaria galleria di situazioni e di personaggi. Ma qual è la sostanza e la novità della sua arte? In un certo senso la riscoperta del vero, della realtà, degli umili, delle condizioni di vita della gente nella Venezia degli anni 30, 40 e quasi fino agli anni 50. Una Venezia fatta di pezzenti, di animali, di gente che litiga, di ubriachi, di gente che affida alla estrazione del lotto, le sue speranze di sopravvivenza, ma con una particolare attenzione appunto al ritrarre veramente, sottolineo l'avverbio, veramente la gente com'è e come vive. Quindi Bosa è la più grande novità ed è la più grande apertura di attenzione e quindi uno sguardo e quindi un panorama che noi proponiamo dell'arte veneziana nell'Ottocento. Un'ultima notazione. In mostra sono presenti anche un buon numero di dipinti di tutti questi autori, gli autori che presentiamo come disegnatori di cui presentiamo dei prodotti grafici.